quello che stiamo per vedere per conoscere per esplorare attraverso i protagonisti del film è un viaggio on the road decisamente diverso da quello che avete sicuramente visto ne siamo veramente orgogliosi e felici di poterne parlare questa sera e quindi per est dittatura last minute chiamo sul palco il regista antonio pisu il produttore paolo rossi pisu e anche interprete e il produttore maurizio paganelli che come dire ci permetterà produttore del film ci permetterà però non perché non è solo produttore del film di poter esplorare veramente quella linea di confine tra realtà e finzione perché insomma lo scopriremo lo scopriremo subito allora antonio io parto parto proprio da questo nel senso che la storia è una storia che come dire che mescola tocca corde completamente di diverse è una commedia ma è una commedia malinconica è un viaggio giovane sono tre giovanissimi protagonisti verso l'est europa nel sul finire degli anni 80 quindi in un momento storico molto preciso abbiamo qui la possibilità questa sera come dire di esplorare la ragione che ti ha portato direttamente a voler scrivere e portare come dire poi sul grande schermo il tuo film perché è una storia realmente accaduta a tre ragazzi in quegli anni lì e quindi come è avvenuto l'incontro con la storia e poi arriviamo proprio a giocare tra realtà e finzione allora buonasera a tutti intanto e l'incontro è avvenuto per la prima volta maurizio paganelli che uno dei produttori insieme a paolo ci siamo conosciuti a cannes sembra questa cosa meravigliosa eravamo lì al festival lui aveva questa storia da raccontare e ce l'ha appunto raccontata e ci ha detto mi piacerebbe farne un film e era adesso poi la vedrete chiaramente per noi è stata subito per me soprattutto è stata subito motivo di grande interesse perché oltre al fatto di essere una storia vera e già questo è motivo di interesse è una storia che anche se ambientata nell'89 ha un po una tematica universale chiaramente un regista racconta la storia poi dal suo punto di vista ma tenendosi ai fatti il più possibile però è il viaggio di tre ragazzi che attraversano un confine quindi di fatto una linea immaginaria e si trovano dall'altro lato che l'italia del boom economico dell'89 la varcano e si trovano casualmente oltre la cortina di ferro e vivono una realtà totalmente diversa da quella che vivevano nel quotidiano semplicemente facendo pochi chilometri quindi come il punto di vista di un essere umano possa cambiare semplicemente attraverso il viaggio la conoscenza l'esperienza e vivendo quelle che sono poi le emozioni nel conoscere altri popoli da quanti da quanto tempo da quanti anni avevi nel cassetto l'idea di come dire di scrivere uno script di tirar fuori dal cassetto della memoria quella vicenda che a tratti è come dire chiaramente il film poi anche su questo ci arriviamo prende delle traiettorie squisitamente cinematografiche quindi insomma si distacca diciamo da quella che poi è stata l'esperienza però da quanto tempo avevi in testa di voler offrire al cinema questa questa vostra storia di amicizia e di viaggio intanto buonasera a tutti e grazie per aver buonasera a tutti e grazie per avermi invitato e beh da diverso tempo e il mio mestiere è gestire sale cinematografiche quindi io ho sempre avuto la passione del cinema e tutti gli anni frequento i festival da berlino a venezia canna e tanti altri anche quelli minori e vedo tantissimi film e ho sempre pensato che nel cassetto avevo una storia che poteva essere molto interessante e portarla nel grande schermo è una storia divertente da un punto di vista perché è la storia di tre ragazzi di 23 24 anni e la loro amicizia ma soprattutto è una storia anche molto emozionante per quello per il contesto storico in cui noi abbiamo vissuto questa storia in quel periodo facendo questo viaggio quindi diciamo che almeno erano 5 6 anni il problema che io non ero o non sono un produttore e quindi gestisco solo sale cinematografiche mi intendo solo da un punto di vista artistico di cinema e quindi da lì a produrre film nonostante sia dentro l'ambiente cinematografico c'è di mezzo un oceano neanche un mare e l'incontro con paolo rossi è stato fulminante come un non si chiama paolo rossi si chiama paolo rossi pisu e se non mi sgrida è stato così comuni un innamoramento a improvviso e insomma la storia di è piaciuta molto e mi ha presentato antonio e al quale gli avevo assegnato il soggetto perché chiaramente avevamo scritto un soggetto da di questa storia e lui ha scritto una meravigliosa sceneggiatura che io insieme agli altri due compagni di viaggio dell'epoca abbiamo immediatamente approvato e da lì è iniziato l'iter della produzione paolo in questo senso appunto diceva non non si occupa lui di produzione però come dire la palla come dire è stata passata a te e nel film c'è un ruolo che ti ritagli o che non so chi se tutto lo sei voluto ritagliare o tu lo hai voluto scrivere è il mio sesto film sì sono 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 anche un attore assolutamente e il personaggio di gerolamo è un puttaniere incredibile e che quindi sono andato nella mia memoria emotiva ho usato il metodo stanislavski strasberg che non so se conoscete no comunque devo dire una cosa importantissima questa ieri sera c'era stone c'era un traduttore perché parlava in inglese parla il romagnolo voi capite tutti quello che mi dice capite tutti sì perché è un italiano un po così insomma è romagnolo e no noi 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 siamo molto davvero molto felici di essere qui questo non solo un posto bellissimo ma è un luogo dove si respira il vero cinema insomma il cinema è un'arte che ha bisogno del sostegno delle persone vedere io conto una sessantina settantina di persone quando ci sono altri tre film in contemporanea è veramente una gioia io credo che il ritorno al cinema delle persone sia la cosa davvero più importante cioè vedere qui delle persone che hanno voglia di vedere un film è una gioia è una gioia vera allora e quindi per favore fatevi un applauso perché per voi che ve lo meritate e lo sottoscriviamo assolutamente come festival andiamo un pochino come dire per ordine c'è un elemento particolare noi chiaramente il tuo film lo hai diretto in questi ultimi anni è tutto fin di finzione al netto di tutta una serie di immagini di repertori originali tenute anche quelle probabilmente troppo tempo nel cassetto e che escono fuori per ricordare sempre allo spettatore che si è un film stiamo raccontando una storia siamo quindi immaginifica sotto tanti aspetti però quella roba lì è successa realmente e ogni volta il repertorio ci serve un po come uno specchio non a raccontare davvero la tragedia della povertà e tutto quello che il popolo di romania in quegli anni sotto dittatura di ceo cescu stava stava vivendo quindi come dire il repertorio torna si mescola nella finzione proprio per sì è questa questa trovata è stata fatta per due motivi fondamentali il primo perché il trovavo molto interessante adesso voi vedrete il film però il film appunto come spiegava lui è fatto da alcune immagini di finzione e alcune immagini in soggettiva perché uno di questi tre ragazzi ha con sé una videocamera che riprende quindi alcune immagini che voi vedrete in soggettiva come se fossero riprese dalla videocamera sono immagini di repertorio un po del viaggio suo vero e un po ricercate negli archivi della televisione rumena della rai insomma un lungo lavoro anche di ricerca d'archivio questa cosa secondo me dava al film un grosso impatto di realismo in quanto sembra veramente un po come se fosse quasi un filmino delle vacanze però in un luogo tragico e questa cosa sono contento perché funziona l'altra l'altro motivo per cui è stata fatta questa scelta è perché ricostruire quegli anni in tutti quei luoghi lì e io non ho i budget di stone nonostante i produttori facciano dei grandi sforzi e loro il merito perché ragazzi investire oggi nel cinema è trovare persone che credono nell'arte nei film quindi grazie però dare sfogo alla fantasia e trovare una soluzione alla fine forse è più vincente questa soluzione che averla ricostruita magari totalmente come la come l'avrebbe fatta hollywood non so se mi ho capito cosa dall'inizio tu sei emiliano prima criticavi me romagnolo tu sei emiliano l'emiliano sono capito nessuno di comprensione ma infatti c'è molta molto attrito tra romagnoli ed emiliani che non porteremo ad ischia questa sera e infatti mi hanno detto che tra ischia porto e forio c'è un po' di rivoluzione è come se fosse questo più o meno però nel film nel film c'è all'inizio del film un piccolo è un passaggio che per me è fondamentale con lui avevo detto come non 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 do a voi la possibilità di fare questo film se non mi lasciate questi 20 secondi di quell'immagine che praticamente è se no che fai di far due risate no ti fa per il cesene io per il bologna ha messo le uniche l'uniche immagini in cui il cesene ha vinto una volta in cent'anni nell'89 e ha messo quelle è stato un motivo di attrito di fatto adesso ancora lo devo pagare si litigano ancora per questa cosa allora visto che per l'appunto le immagini scorrevano in televisori anche perché non stiamo a svelare nulla nel senso il film però si apre con un una lunga carrellata un omaggio a quegli anni 80 televisivi chiaramente un omaggio a vostro padre raffaele che quegli anni li ha vissuti davvero protagonista e grazie a questo elemento così come soprattutto grazie a molta musica pop di quegli anni siete riusciti veramente a far calare lo spettatore in quella che era la sensazione che si provava dall'altra parte perché queste immagini e queste musiche arrivavano facevano emozionare e forse come dire fanno emozionare ancora di più noi italiani che viviamo quel momento grazie intanto se questo è quello che ha suscitato in te spero che sarà quello anche che susciterà in loro e sì chiaramente il film si apre con uno zapping di un televisore di quegli anni nostro papà era raffaele pisu che in quegli anni presentava i giovani non conoscono ma proprio nell'89 era il presentatore di striscia la notizia nella prima edizione quindi mi sembrava carino semplicemente metterlo in uno zapping televisivo e all'estero al di là del della cortina di ferro arrivava qualcosa dell'italia molto arrivava soprattutto della musica totto cotugno albano romina eccetera 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 e è incredibile come i racconti di maurizio ma come la realtà all'epoca molte persone dell'est parlavano l'italiano perché la televisione ovviamente era sotto il regime non arrivava nulla se non l'unica cosa che arrivava in televisione all'epoca era il festival di sanremo quindi tutti conoscevano il festival di sanremo conoscevano le canzoni e quindi parlavano l'italiano attraverso le parole della canzone e questa cosa nel film un po l'abbiamo messa per rimanere sulla musica mi sembra giusto a distanza di non più di un mese e mezzo dalla scomparsa certo del maestro battiato dire che invece una musica che probabilmente invece non arrivava lì giù e che però è un'epifania e proprio la musica di battiato che accompagna questa macchina che si muove lungo varie vari paesi appunto del dell'est europa e grazie alla quale appunto quella malinconia e quella dolcezza che dicevo prima no allora sembra che battiato abbia scritto cioè sembra che io abbia commissionato battiato la musica del film sia perché ci sta benissimo battiato sta benissimo credo ovunque questo un amore mio personale ma poi io per fare il film comunque ho fatto molte indagini ho studiato e ho visto molti dei loro filmati durante quegli anni durante il viaggio e molto spesso mentre erano in viaggio in macchina mi sono visto questi film di ore di canzoni c'era sempre battiato e quindi quindi nonostante sia costato tanto metterlo ci sta benissimo ci sta benissimo e sono stati credo soldi spesi bene no moltissimo moltissimo e per me sono due canzoni stupende sì una tra l'altro meno conosciuta però è per magari il grande pubblico però è proprio sembra la colonna sonora colonna sonora del film è stata candidata ai nastri d'argento da davide caprelli davide caprelli cioè la colonna sonora originale poi ci sono anche delle altre musica paolo con te volevo ritornare un attimo sul tuo personaggio che come dire già hai più o meno iniziato a connotare però mi interessava visto che avete fatto chiaramente un viaggio nella memoria storica d'europa ma soprattutto volevo chiederti per costruire un personaggio del genere che anche qui qualche informazione possiamo darla non stiamo a svelare troppo però insomma e diciamo un contrabbandiere di di sogni di identità di tutto ecco è italiano che si è trasferito appunto in est europa in romania per per fare questo volevo chiederti come hai costruito questo personaggio se c'è stato come dire anche lavoro davvero di ricerca al di là delle delle caratteristiche umane diciamo il tuo personaggio ma quel tipo di figura lì in quel mondo lì magari appunto vi siete confrontati perché ragazzi ne hanno incontrate di quelle figure sì semplicemente quando si prepara un personaggio si cerca di essere quel personaggio a me non è risultato troppo difficile quindi no sto scherzando chiaramente è un personaggio adatto antonio ha scritto questo personaggio pensando alle mie qualità artistiche avevamo già fatto un altro film insieme e quindi è stato abbastanza semplice entrare in questo in questo mood ho fatto un altro film adesso non lo dico perché mi piace anche dirlo perché sono vanaglorioso io ho fatto una parte nel film di giorgio diritti che si chiama volevo nascondermi ho fatto un provino questo film non c'è stato bisogno del provino quantomeno ad antonio non mette nei film le persone che non gli piacciono quindi non è che per siccome sono il produttore suo fratello mi ha messo ero credibile per quella parte infatti adesso stiamo preparando un altro film mi sta facendo sudare le sette camicie perché dice che io non sa proprio se posso essere adatto dovrà pagarmi lo psichiatra perché se sono il produttore lui regista e mi toglie la parte che aveva detto che aveva scritto paolo è un bravissimo attore paolo un bravo attore lo vedrete lo vedrete lo vedrete e il suo grande sogno in realtà è fare l'attore ma non è un sogno è la realtà io mi sono diplomato quando tu ancora non eri nato va bene va bene diatriba tra cesena e bologna adesso sarà questa cosa no è durissimo lavorare con il fratello voglio dire è durissima perché chiaramente ti dice tutte le cose che non vanno e te le dice in una maniera non molto filtrata ma allora sul set non c'è molto tempo di filtrare le cose bisogna portare a casa il risultato il mio scopo è cercare di far risultare tutto al meglio delle sue possibilità nonostante lui mi abbia odiato quei giorni tutti adesso gli fanno i complimenti per quell'interpretazione quindi però non mi ha mai detto grazie perché mi ricordo ancora le sue parole quel giorno mi disse me l'hai fatta fare malissimo io non l'avrei mai fatta così adesso tutti dicono bravo sei bravissimo in quel ruolo ma mi ha detto ancora aspetto pubblicamente no no è stato bravissimo chiaramente dirigere gli attori è una cosa difficoltosa ma voi vedrete che in questo film gli attori in un certo senso non sembrano diretti cioè sono spontanei sono davvero degli amici ecco e proprio a questo volevo arrivare vale a dire se c'è una cosa difficile per un regista è rendere credibili tre amici che magari non si conoscevano fino al giorno uno dell'incontro ecco come ci sei riuscito soprattutto che livello di preparazione c'è stato se siete riusciti come dire a provare tanto anche visti come dire gli impegni di qualcuno dei tre sì faccio un breve insomma cappello introduttivo sul set ci sono ore molto strette poco tempo bisogna parlare con tutti i reparti adesso non mi voglio annoiare però c'è veramente poco tempo e il tempo è l'unica cosa veramente che crea difficoltà su un set io ho bisogno di tre amici come giustamente detto tu e se si fossero incontrati per la prima volta sul set il giorno delle riprese sicuramente le prime la prima settimana non dico che sarebbe stata buttata a livello di relazioni tra di loro ma quasi quindi grazie a loro che me l'hanno permesso sono riuscito a provare con loro come si fa un po teatro come si fa in realtà al cinema all'estero in italia si fa poco però provare in modo che gli attori avevo bisogno di tre amici si conoscessero molto prima prove prove abbiamo lavorato sul copione siamo stati a vedere i concerti di uno degli attori che l'ho doguenzi uno dei cantanti sono diventati amici e questa cosa è la cosa che mi rende più felice perché è quello che veramente appare dal film sembrano veramente tre amici di vecchia data e quindi di questo sono felicissimo e visto che come dire a distanza di 30 anni anzi di più questa giovane generazione di ragazzi ha fatto comunque un viaggio in est Europa in una forza delle zone europee meno frequentate per varie ragioni volevo chiedervi che tipo di impressioni gli stessi ragazzi hanno avuto perché è chiaro che la Romania non è più quella Romania che voi raccontate però nello stesso tempo per chi ha avuto il piacere di visitarla una terra bellissima ancora oggi le conseguenze di quella cosa lì si continuano a vedere quindi volevo chiedervi anche come l'hanno vissuto il loro viaggio in questo senso anche perché un film del genere permette anche grazie soprattutto alla presenza di Lodo Wensi che è molto amato dai più giovani di conoscere una pagina di storia magari meno nota ecco sì assolutamente sì parte della troupe era rumena quindi noi abbiamo collaborato con i rumeni proprio a strettissimo contatto la Romania è un posto bellissimo noi abbiamo cercato di ripercorrere tutta la tratta che loro realmente hanno fatto nell'89 quindi veramente abbiamo girato tante città in Romania probabilmente le abbiamo vissute poco da turiste ma tanto come se fossimo delle persone locali perché stavamo sempre con i rumeni questa è una dittatura molto recente non è come una vecchia dittatura cioè la maggior parte delle persone in Romania l'hanno vissuta quindi si companno degli atteggiamenti ancora loro probabilmente radicati nella sottopelle che li vedi proprio che hanno vissuto per tanti anni sotto una dittatura ancora stanno cercando di lasciarsi alle spalle questo fantasma con il rischio questa cosa l'abbiamo analizzata insieme scherzando un po' semplicemente per una chiacchiera davanti a una birra con il rischio che sembra quasi che vogliano dimenticarsi di essere rumeni e cercare una sorta di identità loro che non gli appartiene o molto occidentale per dimenticare proprio per fare finta che questa cosa non sia mai successa ed è un po' come quando ti sei sporcato e cerchi di coprirti si vede si è un'operazione di rimozione della memoria di un dolore vissuto io credo di non essere più in audio si scritto il tuo dicevo di rimozione di una parte della memoria se effettivamente questo tipo di problema sussiste purtroppo in molti paesi con il vostro film invece la memoria storica con tante chiavi perché davvero lo state per vedere e ve ne renderete conto siete riusciti a riportarla sul grande schermo in maniera veramente convincente quindi grazie per il vostro film grazie per aver dialogato di cinema con voi vorrei dire a tutti i convenuti che la cosa magica incredibile che è successa è che i tre ragazzi hanno vinto i tre nastri d'argento tutti e tre non uno solo dei tre tutti e tre perché la giuria dei giornalisti italiani che assegna il premio Biraghi che è un premio importantissimo che premia i giovani talenti lo hanno vinto i più grossi attori italiani lo hanno vinto questi tre ragazzi e secondo me è molto importante questo perché non è stato scelto solo uno dei tre tutti e tre sono stati giudicati allo stesso livello sì ma perché non esiste un protagonista in effetti forse il grande protagonista è davvero la storia i tre sono a servizio di una macro storia e lo vedrete davvero fra pochi istanti facciamo un applauso a un premio oscar che è arrivato a signor Starsky ci ha raggiunto un premio oscar a signor Starsky io volevo un dettaglio anche un dettaglio scenografico la maggior parte degli abiti che indossano gli attori nel film sono i nostri di 30 anni fa ecco sì perché il mio amico Rice io sono pago nel film perché i tre sono pago, bibi e rice io sono pago rice che è quello della telecamera che è paranoico nel tenere e conservare tutto che ha conservato i filmini, le cassette, compagnia bella ha conservato anche i vestiti dell'epoca e quindi i giubbotti, le maglie, quelle cose lì sono originali di 30 anni fa adesso non tutto ma un 70% sicuramente perfetto e direi che come dire la credibilità io ve l'avrei chiesto in intervista ora siamo appunto un attimo lunghi però appunto la credibilità la credibilità del film passa anche da questo dal fatto che appunto quegli abiti sono i vostri abiti l'ultimissimissima cosa Paola Zamagni ha vinto i David per un altro film e vedrete l'accuratezza del lavoro che ha fatto nel nostro insomma buona visione buona visione grazie ecco e invece Antonio resta un istante perché il festival ci tiene a prego ci tiene a lasciarti un ricordo di questo castello e appunto di quello che è il simbolo del festival grazie mille grazie mille grazie ovviamente all'ISCHIA Film Festival e grazie a voi per essere qui stasera spero che il film vi piaccia io insomma me lo auguro io sono di parte a me piace buona visione buona visione grazie mille 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 grazie mille